E come dicevamo in apertura di programma, mentre ritorniamo in diretta questa mattina vogliamo parlare con un ospite d'eccezione di alcuni temi importanti che ci riguardano da vicino, che hanno a che fare con l'amicizia sociale, la dimensione della fraternità. Voglio subito dare il benvenuto a Padre Francesco Chetta, segretario generale della Fondazione Pontificia. Fratelli tutti, buongiorno Padre Francesco, bentrovato. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Grazie Padre Francesco. E vogliamo approfondire nei pochi minuti purtroppo che abbiamo a disposizione questi temi a partire dal simposio che domani 4 marzo si terrà in Vaticano, la quarta tappa di quelli che sono stati definiti cammini giubilari sinodali dal titolo La giustizia biblica e la fraternità. Ci saranno ospiti di eccezione il cardinale Mauro Gambetti, il biblista Pietro Bovati, Gemma Calabresi, vedova del commissario Luigi Calabresi. Per partire allora Padre Francesco, le chiederei qual è il senso di questo incontro e se ci vuole spiegare come si svolgerà. Dunque la Basilica di San Pietro ha organizzato per arrivare al giubileo alcune tappe sui grandi temi della Fratelli Tutti che è l'ultima enciclica del Papa e la Fondazione Fratelli Tutti di cui io sono il segretario generale e il cardinale Gambetti e il presidente stanno organizzando questi appuntamenti chiamando rispetto ai temi che tocchiamo i grandi protagonisti della società civile italiana. domani parleremo di giustizia, ci saranno avvocati, ci saranno giudici, ci sarà chi lavora nelle carceri, chi lavora nella società civile sul grande tema della giustizia, della purificazione della memoria, della mediazione sociale e Gemma Calabresi verrà a testimoniare come attraverso la sua fede lei ha potuto perdonare gli assassini del marito. e invece il padre Bovati ci spiegherà come la giustizia nella Bibbia è ricomposizione delle fratture relazionali che tra fratelli noi viviamo e la giustizia biblica ci chiede di ricomporle. Alla base di questi incontri nel 2023, nell'anno iniziato ormai da diverse settimane, c'è il tema della purificazione della memoria. Ecco io vorrei citare un versetto, un piccolo passo del capitolo 7 dell'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco dove il Pontefice scrive c'è bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro con ingegno ed audacia. Ecco padre Francesco noi abbiamo celebrato, mi passi il termine, tra virgolette una settimana fa circa il primo anniversario della guerra che è scoppiata nel cuore dell'Europa. Ecco quello che le voglio chiedere, come può la giustizia biblica che è l'oggetto del simposio di domani essere una guida, una bussola per cercare anche di mettere in campo quelle che possono essere delle soluzioni concrete, delle teorie per porre fine a questo conflitto che è ingiusto e che sta facendo tanto male? L'amicizia sociale e la fraternità per il Papa ma anche per noi credenti crediamo che sia la vera e unica, i veri e gli unici antidoti per arginare le guerre e mi faccia dire anche le tante violenze che poi generano guerre, conflitti tra noi, disagi in famiglia, problemi in società eccetera. Allora siccome la fraternità non è un dato biologico, non si dà per natura ma è una scelta culturale, allora quello che noi vorremmo fare e come chiesa, quello che stiamo anche state facendo voi come emittente, è creare cultura di fraternità, scommettere su questa cultura, incontrarci, dialogare, le guerre se ci si conosce e non ci si combatte, se gli interessi personali non prevalgono su quelli invece generali dove si deve difendere il debole e il povero, non c'è ragione di fare guerra, altrimenti c'è guerra. Dunque allora è capire come si può lavorare nella coscienza personale e nel cuore degli uomini ma anche nella coscienza diciamo così politica e sociale nel cuore delle società. E tutto quello che stiamo facendo nel piccolo è rilanciare anche questo sogno. Francesco lei ha a che fare anche con gli studenti, ecco questa amicizia sociale, questa fraternità si fa anche appunto con la cultura, con lo studio. Fuori dalle nostre domande, ecco dalle tracce che abbiamo condiviso. Secondo lei questo tema della cultura come può incidere in maniera significativa su quanto sta accadendo? Guardi la cultura è ciò che noi respiriamo nell'aria e ci genera. C'è un bel libro di Zoya, che è uno psicoterapeuta, che si chiede se in una cultura muore il secondo comandamento del recalogo che cosa può succedere se muore il prossimo. E lui dice se va bene l'altro diventa un pericolo e se va male io l'altro non lo vedo più perché è morto e quindi non riesco a riorganizzare i bisogni. Quindi il desiderio di ritornare all'amore per il secondo comandamento che è amare l'altro come se stessi è fondamentale per noi per riattivare politiche buone e dare speranza anche ai giovani come lei diceva. Perché altrimenti nella solitudine siamo bloccati dalle paure e la società italiana è fondamentalmente bloccata dalla paura e dalla malinconia, dice l'ultimo rapporto del Censis. C'è un passaggio molto bello della Fratelli Tutti di Papa Francesco. Dice ogni guerra lascia il mondo peggiore di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della politica, dell'umanità, è una resa vergognosa, è una sconfitta di fronte alle forze del male. Ecco, amicizia sociale, fraternità, padre Francesco, quale ruolo possono avere nella prevenzione dei tanti conflitti che poi noi tendiamo in maniera quasi difensiva ad ampliare all'intero globo? Ma poi sono anche i conflitti, se vogliamo, personali tra di noi, sul posto di lavoro, tra studenti. Sono conflitti che hanno a che fare con la quotidianità, se vogliamo. Guardi, io da tanti anni accompagno il tema anche come missione, diciamo, come gesuità della giustizia. Sono entrato in molti penitenziari, lo studio, diciamo, e tento di comprenderne come la giustizia vive nei flussi della cultura nel mondo. Mi sono reso conto che la dimensione della giustizia, sia negativa che positiva, è ricostruzione di rapporti che si spezzano. I giapponesi hanno questa immagine che quando un loro vaso si spezza, si rompe, loro raccolgono i cocci e li fondono con l'oro fuso, che fa sì che quella ricostruzione abbia ancora più valore di ciò che invece si era spezzato. Allora, noi dobbiamo scommettere su questo e ricoprire con l'oro fuso oggi nello spazio pubblico vuol dire ritornare a dialogare, mediare politicamente e avere degli interessi che sono di gerarchia. Il primo deve essere non difendere gli interessi dei stati delle nazioni, ma le persone, la dignità delle persone, perché la guerra distrugge tutti. Distrugge le madri in Russia che devono piangere 200 mila figli morti, distrugge un paese come l'Ucraina che si vede distrutto e ancora impossibilitato di costruirsi, ma tenete conto che poi ci sono altri un centinaio di conflitti nel mondo che senza essere narrati stanno privando della vita molte popolazioni. Padre Francesco, lei ha citato più volte l'amore politico, l'amore per la politica, direi. Per chiudere la nostra chiacchierata, la nostra intervista, ritorniamo ai cammini giubilari sinodali che per l'ultima tappa hanno previsto proprio un approfondimento sull'amore politico. Papa Francesco nella Fratelli Tutti osserva la politica oggi spesso assume forme che ostacolano il cammino verso un mondo diverso. Per chiudere, allora, padre Francesco, le vorrei chiedere, visto che lei è uno dei più influenti politologi italiani, da dove deve ripartire l'amore per la cosa pubblica? Per quella che San Paolo Sesto definiva la più alta forma di carità, una definizione bellissima. Sì, guardi, se la sua domanda è per noi credenti, allora io direi che bisogna ripartire da riaprire dei luoghi e fare incontrare le persone, ridiscutere seriamente dei grandi temi attraverso le competenze che nel mondo cattolico ci sono e proporre delle riforme allo spazio pubblico. Oggi noi siamo una minoranza però molto creativa e ai cattolici nei momenti di crisi si chiede sempre di arrivare ad occupare posti di responsabilità, dal Presidente Mattarella in giù. Dunque non dobbiamo dividerci tra parti politiche, ma quello che ci unisce lo dobbiamo condividere per servire l'uomo e una nuova stagione. Mi permette di dire questo come battuta, non dobbiamo generare qualcosa di nuovo nel vecchio, ma noi dobbiamo costruire un nuovo paradigma di sviluppo umano integrale che cambi il sistema che stiamo vivendo che è già a capolinea, perché non c'è rappresentanza politica, i partiti sono chiusi a oligopolio e di fatto anche adesso l'ultima elezione del PD ci stanno dicendo che i partiti si stanno spostando i movimenti in temi liberal. C'è davvero allora tanto lavoro da fare, tanto da studiare, ecco oserei dire anche come presa di responsabilità e di coscienza. Io padre Francesco la ringrazio di cuore per essere stato con noi, grazie, grazie davvero. Io ringrazio voi, auguri per tutto. Grazie, ringraziamo padre Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Pontificia Fratelli Tutti, ricordando questo simposio domani in Vaticano dal titolo La giustizia biblica e la fraternità. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme in diretta.